Signore, in questo posto meraviglioso, una faggeta fantastica con il carissimo amico Giancarlo. Come potete vedere c'è il prunulus, che è il fungo spia per eccellenza del porcino, tra l'altro questo pure è commestibile, uno spettacolare odore di nocciola. Guardate, un porcino in uscita e lo lasciamo, ma guardate cosa c'è qui. Grazie. Grazie.